Persiste l'allerta meteo in tutta la Toscana, confermato il codice arancione per vento in tutta la regione e arancione per neve sui versanti orientali dell'Appennino dalla mezzanotte di martedì per 24 ore. Lo è emesso il centro funzionale della regione confermando la previsione di vento fino a mercoledì. A questo si aggiunge la possibilità nelle prossime ore di nevicate sul tratto Tosco-Romagnolo, Alto Mugello, Casentino e Valtiberina. È prevista una zona di bassa pressione sul medio-basso tirreno che attiva intensi venti di grecale con probabili nevicate. In particolare i venti di grecale avranno un'ulteriore intensificazione soprattutto nella notte con raffiche molto forti. Le forti raffiche continueranno per tutta la giornata di martedì. Sono previste nevicate abbondanti sui versanti orientali della regione, nevicate poco abbondanti anche in zone che non sono appennini che nel resto della provincia di Arezzo.